In questo momento diciamo che ci eravamo un po' illusi dopo le indiscrezioni lanciate da alcune testate nella giornata di ieri. Poi la realtà questa mattina è stata tutt'altro, il campo basso è stato respinto e è stato fatto fuori dalla Serie C. Dobbiamo prenderne atto, adesso non sappiamo cosa succederà nel dettaglio perché il bando del sindaco per la partecipazione in Serie D è scaduto sabato, non sappiamo se ci sono state delle manifestazioni di interesse perché l'amministrazione comunale ha deciso di non fare nomi o almeno fino alla sentenza del Consiglio di Stato quindi presumibilmente in queste ore credo parlerà anche il primo cittadino di campo basso Roberto Gravina per cercare una soluzione, eventualmente aspettiamo anche le parole dei principali interessati ma quel che è certo è che è una sconfitta per una città, per una regione, per un intero popolo quello molisano che ci ha creduto e che ha lottato fino alla fine e che poi è rimasto tremendamente scottato da questa vicenda quindi le parole in questo momento sono inutili, non rincuorano lo stato d'animo di un'intera regione. Grazie 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 Grazie